Musica Salve sindaco, cosa ne penso della vittoria? Sono soddisfatto del risultato perché ho tenuto una situazione estremamente difficile quindi questo ci dà la possibilità di continuare e portare avanti le nostre attività che avevamo in sospesa. Cercheremo comunque di trovare anche un modo di relazionarsi con la minoranza diversa rispetto agli ultimi anni.